Musica Bentrovati a Sport News Il centrale bianco-rosso Sceninezzi è stato nominato dalla Lega Pallavolo Serie A il Credeme Banca MWP del mese di gennaio, grazie alle sue grandi performance nei match di regular season agli albori di questo nuovo anno solare. Poco prima del fischio d'inizio dell'incontro in programma, domenica 18 febbraio alle ore 18, contro Cisterna Volle all'Erosuole Forum, partita questa valevole per il nono turno di ritorno, l'atleta atalanzalpino riceverà il prestigioso riconoscimento di Lega per mano di Simona Sileoni, presidente bianco-rossa. A Matelica ci sono due nuovi giovani promesse nella disciplina del tiro con l'arco. Alla gara nazionale a Pordenone Elena Paoli e Caterina Parnini si sono distinte nelle rispettive categorie con i colori dell'ASD Arceri Matelica. Nell'arco nudo Elena si è classificata undicesima nella categoria junior femminile, mentre Caterina ha raggiunto l'ottava posizione nella categoria ragazze. Entrambe erano all'esordio e hanno dimezzato subito la distanza rispetto alla posizione di qualificazione. Risultati che fanno ben sperare e che di fatto sono storici. Per l'ASD Arceri Matelica è infatti la prima volta che due ragazze si qualificano e partecipano ad una competizione di questo livello. La Sacene Corridonia con la Fidale Marche e l'amministrazione comunale organizzano domenica 18 febbraio il terzo cross Corridonia Parc valido come campionato regionale staffette cross ragazzi cadetti assoluti e master. Campionato regionale individuale cross corto assoluti open allievi juniores. In programma anche gare di contorno per esordienti A, B, C. Come gli anni passati sarà uno spettacolo vedere gli atleti correre in questo grande parco verde. Sono previsti circa 500 iscritti provenienti da tutta la regione. Ritrovo alle ore 8 inizio gare fissato per le ore 9. E con quest'ultima notizia di sport è davvero tutto per questa edizione del Tg. Grazie per l'ascolto e a tutti voi buona serata. Grazie per l'ascolto e a tutti voi buona serata.